Io ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di Governo, non perché mi abbiano pagato per dirlo come ritiene qualche fenomeno, così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo un grande presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Matteo ti seguo dal Brasile, forza Bolsonaro, è vero ci sono le elezioni in Brasile, c'è il ballottaggio fra Lula e Bolsonaro, uno di estrema sinistra, l'altro presidente in carica, posso solo dire viva la democrazia e viva lo straordinario popolo brasiliano e sicuramente fossi in Brasile non voterei un candidato di estrema sinistra.